Questa Ivana la metterà comunque sul blog, perché è una canzone che parla di un'esperienza un po' particolare che è capitata, credo a pochi nella vita. Non so se è più grave per Ivana o per Francesca, che non riusciva a sapere. È un'inquadratura, si spera, si spera. Cosa ha detto? Si spera. Eccola. Mite di particolare. È la storia di Francesca che per sbaglio, cercando una penna nell'assuccio, si è ritrovata nelle profondità marine di Ivana. Marina è una scelta che la sua. Scelta che la sua. Sei una Marianne della Forza delle Marianne. Dopo vicepire con non vi preoccupate. E se sono stupido. Un giorno come tanti, forse è un po' più speciale, in un'aula del liceo la noia si fa sentire. C'è chi fa uno sbadiglio, e chi si sente stanco, e chi come Francesca vizza a mano sotto un funk. Ma Francesca non lo sa dove corre la sua mano. Lei non tocca il banco, ma arriva un po' più lontano. Giù dentro il profondo, fin dentro la sottana. E si riapposto dell'astuccio, si ritrova a miete cosce in mano. Francesca ti odio. Francesca che cercavi, me lo sapresti dire. Anzi meglio di no, che c'ho dell'altro da capire. Ad esempio come hai fatto, a non pensare a un segno, quando hai sentito che sotto la tua mano. Non c'era più alcun legno, a meno che Ivana non sia figlia di ceppetto. Si ritrovi tra le gambe, le ante di un mobiletto. Ma ora la domanda, che più ci preme un'altra. Secondo voi qual è la domanda che più preme? Ivana è goduto, Ivana è goduto in quel momento. E non è questa.